Buonasera e buona martedì 23 di maggio Ieri questo spettacolo di vestitini in tessuto crepe che non si stira che sono fantastici che si possono abbinare con gli anfibi che si possono abbinare con i tacchi che sono in taglia unica che ci sono disponibili in tutte le colorazioni dal bianco al latte al sabbia al nero al verde militare ragazze tac detto fatto preso subito subito mio indossato messo oggi ho deciso di farvelo vedere proprio come vi stavo dicendo con un abbigliamento un pochino più casual con un giubbino di jeans elasticizzatissimo e corto in vita quello che abbiamo ancora disponibile ragazze bello vabbè io i giubbini di jeans lo sapete li amo tutto ciò che è capospalla mi piace tutto ciò che è capospalla estivo mi piace ancora di più perché comunque basta una giornata come quella di oggi che è stata praticamente caldissima tutto il giorno fino alle 5 di pomeriggio è arrivato il diluvio e ragazze col giubbino di jeans si sta perfetto questo modellino poi in particolare che si può chiudere che è un semi elasticizzato e che rimane bello aderentino e corto praticamente a superare il passante del pantalone mi piace tanto con questo vestitino vestitino che ragazze ora vi farò vedere che sono andata a mettere con i leggings quelli da 6 euro e 99 tessuti di microfibra quelli fantastici che vessono coprono sono comodissimi e poi sotto ci ho messo l'anfibietto il mio adorato anfibio con le bolle che abbiamo ancora disponibile sempre promo 19 euro e 99 ragazze per queste giornate dove può darsi che piove come può darsi di nuovo io sto perfetta levo il giacchettino di jeans anche se mi piace da impazzire cioè guardate come veste con le tasche con le tasche ragazze bello bello lo levo e vi faccio vedere il vestitino che ho indosso vabbè ragazze già lo so che molte di voi penseranno mano ma tutti innamori molto facilmente dell'amigliamento avete ragione mi piace da impazzire ma guardate questo vestitino che cos'è la gocciolina dietro con il bottoncino che comunque non serve aprire per calzarlo quindi non vi impiccate a smontarlo e rimontarlo se siete da sole soprattutto perché tanto non serve e la testa ci passa e io ho una bella testa ragazze guardate la finezza la sciccheria anche sotto la parte della scella c'è la stoffa che va a chiudere quindi il reggiseno non si vede giro manica che veste benissimo fili elastici che sono ultra morbidi lunghezza del vestitino della gonna che rimane giusta perché arriva a coprire proprio in prospettiva il ginocchio perché sta tre dita sopra bello morbido veste benissimo ragazze ditemi come si può fare a non amare questo vestitino che ha questo tessuto leggero coprente da notare che non si vede nemmeno la cannottierina che porto sotto ragazze perché comunque la porto la cannottierina quindi coprente in tessuto di crepe leggero e perfetto per tutta l'estate non si stira si asciuga subito non puzza è perfetto giro manica guardate che bello no vabbè ragazze io adoro poi la spalla così morbida che mi riveste non è bellissimo secondo me è fantastico questo vestito vabbè allora bambole vi dico che domani magari qualcosa arriva io non ho detto niente vediamo vediamo che cosa esce dal cilindro perché sicuramente qualche riassortimento già ce l'ho segnato che domani è mercoledì quindi appuntamento ve lo do come sempre a partire dalle 9 e 30 fino alle 13 e 30 per quanto riguarda la e poi per quanto riguarda il pomeriggio a partire dalle 16 fino alle 19 e 30 ragazze io mi avvantaggio ad andare perché ho due consegne da fare quest'oggi e quindi vi do appunto a vedo domani mi raccomando occhi aperti perché sto caricando un sacco di articoli nuovi ci vediamo domani e reggine alla parte c'è domani ora è tutto ciao grazie a tutti